Ehi la ciurma, io sono Mazzetess e ben ritrovati su Imperator Room Siamo qui pronti a prestare tutti gli ultimi preparativi per quello che sarà l'invasione della Frigia Allora abbiamo un po' di gente qua in giro No, questi direi che posso già il terzo stratos, oddio, aspetta un attimo Ovviamente ci sono i barbari, quando stai per preparare delle cose, barbari Qua ci stanno, sì benissimo, e qua? Un percento di attrito perché è deserto No, qua niente attrito, va bene, allora go to location, ah son qua Allora io direi che, facciamo un attimo una cosa Voi? Dov'è che state passando? Da qua? Ok, fermatevi qua Così gli do il forced march appena Ok, e andatemi a picchiare questi prima Poi andiamo in Frigia, ma intanto picchiate quelli Oh, gli altri ritarei nelle retrovie, il terzo affare Ma intanto metto questi Mettiamo questi Pu di nuovo È morto il genere del secondo stratos Proprio adesso Oh, questi li mandiamo qua Poi andiamo Ah no, quelli sono sempre i barbari di prima, sì Ah vabbè, il secondo stratos E questo qua non era super importante Mettiamo anche uno un po' meno potente Cioè ci sono delle squad family? No Mettiamo questo magide Ok, livello 9 di militare Che è molto buono Chi è tutta questa gente che sta morendo? Ah, ops, questi sono ancora imbarcati Ma perché il First Naughty Conce ha pigliato questi tizi qua a caso? Ah, ok, adesso vengono qua a schiantarsi Ottimo Tu togli il Forse di marcia Questa Sì, da Ok 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 Allora, tu dammi Due navi Qua Questi sono 20.000 al quinto stratos Sì, e gli diamo un bel generale Non troppo corrotto Ce ne abbiamo qualcuno? Ok No, allora Niente glass Niente salt Chi è che manca? Il governatore della Palestina pure Eh Da questo Eh Il meno peggio cerchiamo di fare Allora, qua è a posto Ci abbiamo un tizio da livello 9, ok Lo manderei magari Qua non prendo trito Ok Buono Qua uniamo queste qua E quella da 12 Ok Le unisco No, quella da 27 La mandiamo Qua su Ok Aspetta un attimo E niente E niente No, stavo mandando là No, ve la su Ok Ok Questi 20.000 andranno subito là E poi dopo E poi andranno qua 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 E in questa zona Le altre navi Mi servono qua sotto? No C'è una corte di cavalli qua Ops Dove li ho andati questi? Boh Ah Vuole un office Che falon E lo mettiamo al capo Di un esercito E guarda Stratos Che 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 barba, però, sta storia. Allora, eh... Niente, allora, questi li muoviamo qua sopra. La sto perdendo 3,30 al mese. Aia! Abbiamo fatto un po' troppo esercito, mi sa. Se mi chiedono di esportare qualcosa, mi sa che lo farò. Perché il quarto stratos... Ah, no, ok, questo è il quarto stratos... È il quarto stratos finto. Ah, no, ok, ma sono qua, sono qua, sono qua. Niente, fermati là. Perché non mi arrivano offerte se non ho bisogno. Ah, facciamo una cosa, eh... Stacchiamo... Due... E un cavallo... E questi li. Ok, perdiamo 0,52 al mese che non è troppo grave, dai. Allora, questi sono dei mercenari, ma non dovrebbe essere troppo un problema. Le mie altre imbarcazioni, vi ho detto, le mandiamo anche queste lassù. Mi vado a tenere sotto controllo. Ah, l'armata... Ok, le navide ha finito e sono tutte insieme, quindi... Adesso, dove sono finito? Perché lagga così tanto quando ci... Ah, ok, molto contento e ci dà un sacco di soldi. Vabbè. È proprio il periodo in cui ci saranno i soldi, effettivamente. Mettivano insieme perché loro ci hanno 43 triremi tutti insieme. Allora... Questi sono là a posto, questi sono qui. Quello non aveva per conto suo... Ok, dai... No, perché mi dice positivo? No, perché sarà positivo questo mese, verosimilmente. La frite vuole delle olive. Va bene, ci pagherai... Quello che farà... Ci darei soldi che serviranno per tirarti. Ci ho detto. Non è che c'è qualche invenzione che possiamo fare che ci dà dei soldi, magari. Try to an output. E' tutta un'ottima. Ehm... Sì tutti sui tribesmen, non mi interessa. Non ne viene neanche tanti. Ehm... Vino. Vadi. Dei soldi in più non fanno mai male. Più 1,71. Ok. Ma io aspetto, solo che la... Le navi siano in posizione. Ok, 50. Questo è bello tosto. Anche se... E' parecchio vecchio. 84 anni, a mare... Mannaggia. Ehm... Fabricate claim. Ehm... La cilicia dov'è? Ehm... No, della galilea. Siamo pronti? Nel dubbio facciamo un salvataggio, eh. Volevo solo salvare, grazie. Ok. Ok. Ah no, ok. Dobbiamo aspettare il 28 febbraio, perché siamo abbiante. L'hanno detto... Il governatore della Siria perde eventi di realtà. Spero che non ci capi nemmeno solo delle rivolte nel mentre. Cioè, tranquillamente dovremmo avere tutto a posto, ma... Ci proviamo? Vada. Allora. Forti qui non ce n'è, quindi... Carpet siege. Questi li mando qua, just in case. Siamo anche contro questi, no. Eolia, Atene, Chiziko, Astakos, ok. Ma Atene è collegata via terra a qualcosa? È collegata via terra solo alla traccia? Potremmo anche fare un'invasione di Atene, effettivamente, allora. Allora, qua fai spriti in alfa e solo metà, andiamo qua. È quella con il generale, sì. Chi è che sono senza comandanti? Il quarto status? Ah, ok, quelli che sono smezzati. Crisi nella Giudea. Ok, ma non sarà la nostra preoccupazione in questo momento. Voi salite intanto, perché qua mi state un po' troppo lontani. Se ci ringrazio qua, com'è? Ah, questo l'abbiamo preso. Ok, allora, tutti e due qua veloci. Ok. Questi stanno prendendo attività, quindi nel dubbio mettiamoli in zona. Ok. Non troppo pericoso, l'autoremo là in Grecia, imbarchiamo. Ok. Imbarcatevi, allora, vediamo un attimo qua. Ah, buono. Buono. Buono, allora torniamo qua in Grecia. No, questo è molto buono. No, questo è molto buono. No, li lascerei qua, perché ho paura di mandarli lì senza vedere che cosa sta succedendo. Allora. Qua. Vediamo quella qui dopo che gara. Sì, in questo momento quei soldi mi servono. Oh, però non sto vedendo nessuno qua in giro. Questa stanza si ripigliano con... Ok, stiamo perdendo... parecchia gente per attrito. Split in alfa, metà andate a Megara. Per Papiro vada. Allora qua sta succedendo qualcosa. Knido. Knido ci sta attaccando a Koss. Fesco come hanno portato 20.000 uomini là. Con le barche, ovvio. Eh, però lasciamo stare. Andremo a seguire la loro flotta tra poco. Qua è tutto senza forti, sempre. E' tutto senza forti, sempre. Andiamo a prenderli e spostiamo questi. Potremmo lasciarli là un attimo e riprende, se effettivamente... Qua cos'è che dobbiamo prendere noi come... La Galilea. Ma noi ce l'abbiamo, perché? Difensore controlla la Galilea. Ma in realtà no. Cioè forse è solo quel pezzettino, ma... Allora, uno... E uno, due... E' un milaglio del First Naughticon, allora... E' un milaglio del First Naughticon, allora... Ma il First Naughticon è quello da uno soltanto, non è un problema. Nectanebidi, Amidi e Timoridi. E diamo qualcuno. Nectanebo, vai. Crisi in Samaria, anche. Ah, qua è un bel casino con... cosa effettivamente andrei qua faccio sbarcare metà dell'esercito e poi andiamo a occuparci di quelli in seguito allora adesso io che ho preso tutto dovrei guadagnare punti vero yes allora mandiamo questi qua questi si sono ripigliati non ancora del tutto li lasciamo ripigliare un attimo ok ma cosa offre la friggia? la galilea, la pamene la siria coele e la south fenicia scusa un attimo allora la siria coele è questa la south fenicia la galilea appamene, dov'è appamene? ma non può neanche darmelo la pamene? no declino ma sono messi male? no non sono messi male perché hanno così frutta di di chiudere la guerra boh non saprei proprio dire non sono riusciti a prendere quello? no 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 ancora andiamo a vedere un attimo qua cosa riusciamo a fare vabbè non poi stanno ancora tornando facciamo che si ripiglino un poco ah oh ci abbiamo 7000 tizi qua allgo un attimo a l'argo Cosa è che voglio darmi? Sempre la stessa roba No 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 Che casino Mi sape però comunque che continuiamo nel prossimo episodio Io vi invito a lasciare un mi piace Iscrivetevi per caso non è stato già fatto Ci vediamo nella prossima puntata Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti